Non ha voluto intervenire in diretta ma voleva sapere gli alimenti da seguire in dialisi perché purtroppo sta facendo la dialisi. Sì, e magari questa persona se ci contatta per la volta prossima è per la dialisi. Per la dialisi in base alle sue caratteristiche immunitarie, in base, non è per la dialisi, è per la sua vita quotidiana, per far funzionare bene i suoi reni come abbiamo accennato, l'abbiamo detto all'inizio, i problemi che portano alla dialisi sono che i reni non funzionano più e per far funzionare bene i reni, a parte che i reni sono proprio un ammasso di proteine, i reni non li vogliono vedere gli amidi, i cereali, i reni sono programmati per non vederli, non li hanno mai visti per centinaia di migliaia, forse per milioni di anni, nell'ultima parte della storia alimentare umana continuiamo a fargli vedere dei cereali, degli amidi, i reni non li vogliono vedere, sono lì per eliminare le scorie delle proteine. La gente mi dice, ma poi con tutte queste proteine i reni cosa fanno? I reni faranno festa, perché i reni sono programmati proprio per eliminare le scorie delle proteine. Fateli vedere le proteine, certo le proteine giuste, merluzzo crudo, salmone crudo, guarda anche dissalando, dissalando il, per bene, bene benissimo che non sia più salato, dissalando il baccalà, mangiandoselo a cubetti con il limone, ecco si può fare del bene ai propri reni. Poi dicono che il sale fa male, ma non è vero che il sale fa male i reni, fa male il sale i reni se lo si combina con determinati alimenti, con i salumi, con i formaggi, con i cereali salati, questo sì che gli fa male. L'orario ci ha sfuggito di mano, ma meritava. Il finale come sempre è esplosivo, non fa niente se poi domani sarà richiamato dall'ordine dei medici, perché è stato dirompente anche in queste dichiarazioni. Ma mi conforta molto, mi conforta molto che sono sempre, sempre più i medici che si rivolgono a me per i loro problemi. Questo è una cosa importante. Perché i medici vanno in crisi, vanno in crisi, solo ed esclusivamente, quando loro o i loro familiari hanno dei problemi di salute che con le loro medicine e con la loro chirurgia non riescono a tenere a bada. Domenica scorsa era da Piano Gentile al mercatino biologico, sempre la seconda domenica. È venuta una persona che mi ha fatto, beh, ho avuto domenica scorsa perché quella lettera di quella ragazza con il diabete è venuta lì domenica. L'altra era a dire, sono venuto espressamente per dire della mia artrite reumatoide che sono sei mesi, che sono guarita, guarita nel senso guarita, che non prende più farmaci, non guarita col metodo trexate o immunosopressori, sono guarita dall'artrite reumatoide. L'altro un signore col diabete che mi ha detto, sono guarito, non prendo più, non l'insulina, lui prendevi farmaci, li polglicemizzati, sono guarito. E mi dice, non so se dirglielo al mio medico, perché il mio medico ha due figlie che sono tutte e due diabetiche. E gli ho detto, ma che cosa aspetta? Corra dal suo medico e glielo dica, gli dica che lei è guarito dal diabete, mangiando in un certo modo, non dico che guariranno al 100% come è stata brava, bravissima, quella ragazzina lì, togliendo del tutto l'insulina e avendo le glicemie a posto, ma sicuramente avranno dei miglioramenti strabilianti. Ma tutti i nodi vengono al pettine, tutti, 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 tutti quanti. E l'umanità, se non si va sulla strada, se non si indirizza sulla ricerca, non fasulla, non fasulla, sulla ricerca proprio della causa vera. Dei giorni scorsi, era la notizia che ho sentito per radio, ogni tanto saltano fuori, hanno trovato che la trielina pare che sia responsabile del morbo di Alzheimer. Ma figuriamoci, se tutti quelli che hanno il morbo di Alzheimer hanno avuto a che fare con la trielina. Ma per l'amor del cielo, ma per l'amor del cielo, ma andate a vedere che cosa uno mangia quotidianamente. E lì c'è la storia dell'Alzheimer, di Mr. Alzheimer. Non dell'Alzheimer, pardon, del Parkinson. Del Parkinson, scusate della cosa. Ecco, sì, figuriamoci se i malati di Parkinson, del morbo di Parkinson, hanno a che fare con la trielina. Papa Voitila cosa facevano? Gli lavavano sempre con la trielina, ecco, gli abiti che poi lui se ne respirava. Buonanotte a Secchio, la ricerca, perché adesso tutti vanno a questuare soldi con questa storia della ricerca. Ma se vanno a cercare i funghi sul greto di un fiume, non trovano dei funghi, trovano dei sassi. Se vogliono trovare i funghi veri, devono andare nei boschi giusti. E allora trovano i funghi, i fungaioli e lo stesso i ricercatori. Ora chiudiamoci.